Il Varo della Seconda delle undici torpediniere commissionate ai cantieri riuniti dell'Adriatico della Marina da Guerra del Siam. Presenti il ministro plenipotenziario a Roma del sovrano siemese e le maggiori autorità militari e civili della provincia. Presenti il ministro plenipotenziario a Roma del sovrano siemese e le maggiori autorità militari e civili della provincia.